Ecco, ben ritrovati. Cambiamo argomento, parliamo di autonomia differenziata. È uno dei temi caldi di queste giornate ed è giusto e doveroso fare un approfondimento su questo tema. Noi lo facciamo con molto piacere con Emilio Paolo Stasi, che è il presidente del circolo culturale La Scaletta di Matera. Bentrovato, presidente. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e bentrovato. Abbiamo fatto nei giorni scorsi un approfondimento su questi temi. Ha partecipato il presidente della fondazione Gimbe, Cartabellotta e da lui è arrivato anche un monito, un allarme lanciato rispetto all'autonomia differenziata. In sanità è un argomento, una materia da maneggiare con cura e più di questo ovviamente rappresenta sicuramente un elemento su cui riflettere. Certo, io intanto devo ringraziare per l'invito, ma soprattutto per gli argomenti che si vogliono trattare. In effetti sanità e autonomia differenziata credo che vadano di pari passo in una situazione quasi di emergenza. L'allarme, La Scaletta l'ha lanciato ben tre anni fa, nel 2019, con una serie di seminari in cui furono invitati molti personaggi, per esempio Giannola, dello Swimers, lo stesso Viesti ed altri ancora, il giornalista Esposito. Perché effettivamente è un argomento che porterebbe a una divisione dell'unità nazionale. E' un argomento che sembrava accantonato. Nel dicembre 2021, con un subdol collegato alla finanziaria, quindi inserito nel DEF, in pratica fu appunto predisposto questo dispositivo per cui il Parlamento impegnava il governo alla stesura di un disegno di legge sull'autonomia differenziata. Perché subdolo? Intanto perché praticamente è passato con un governo quasi di unità nazionale, quindi a questo punto non si riesce a comprendere anche alcuni partiti fortemente radicati a livello nazionale, come possano condividere una cosa del genere. Ma subdolo, per la semplice ragione che è inserito nello strumento finanziario, in pratica non c'è più la possibilità di intervenire anche con un referendum abrogativo. Ora, se dovesse andare avanti questo tipo di impostazione, cioè dovesse veramente concretizzarsi il disegno di legge, basterà un accordo tra Regione e Stato perché vada in vigore l'autonomia finanziaria. Noi abbiamo avuto ospite viesti nel ciclo di seminari di democrazia e futuro. Abbiamo avuto viesti prima dell'inizio dell'estate, il quale ha ribadito ancora una volta quale fosse il pericolo a cui si va incontro. Tant'è che è talmente preoccupato che insieme al professor Villone di Napoli hanno predisposto una proposta di legge di iniziativa popolare che in pratica ribalta un po' quello che è il principio dell'autonomia differenziata così come lo vuole la Lega e Calderoli. E cioè nel senso che non si parla addirittura, ecco, perché oggi tutti invocano che siano rispettati i livelli essenziali di prestazione. Viesti parla di livelli uniformi di prestazioni, cioè ci sono praticamente deleghe che non possono assolutamente essere trasferite alle Regioni. Una per tutte è quella della sanità che recentemente con l'ospitalità che abbiamo dato per una iniziativa al professor Cartabellotta della Fondazione Gimbe ha praticamente avvisato tutti, avvertito tutti di quale potrebbero essere i risvolti di una delega piena alla Regione. Io poi personalmente devo dire... Sì, stiamo venendo nodi con le immagini proprio di quel momento che è stato ospitato a Matera all'Hotel del Campo e ha presentato una relazione interessante con annessi grafici che hanno fatto comprendere agli astanti e a noi tutti, ma è compreso che lo presenti, quanto sia importante parlare di sanità e farlo con i dati. Sono numeri importanti che non possono essere soggetti ad opinione. ha presentato dei dati molto precisi, seppure con un aggiornamento riferito credo al 2021. Mancavano ovviamente quelli di quest'anno che arriveranno poi a seguire. E voi, come circolo la scaletta, avete sottoscritto anche un documento importante con altre associazioni? Sì, abbiamo fatto un documento su questo argomento. Noi volevo tornare un attimo proprio velocissimamente sul problema della sanità. Cosa può configurarsi? Noi abbiamo visto che il grosso problema, il grande problema della nostra regione, la grande criticità è l'emigrazione sanitaria. Noi abbiamo praticamente un livello di emigrazione che è pari a 0,6, quindi vuol dire che c'è una forte emigrazione. Uno su quattro va in altre regioni. Ci sono regioni tipo l'Emilia-Romagna che ha 2,5, vuol dire che in pratica oltre a equilibrare l'emigrazione con l'immigrazione, va oltre per un punto e mezzo. Questo vuol dire che se dovesse passare il concetto di autonomia finanziaria, che i costi che affronta l'Emilia-Romagna per accogliere anche questa emigrazione, diventano un dato consolidato. Per cui noi avremmo sempre la condizione di 0,6 e loro la condizione di 2,5. Cioè nel senso che la spesa sanitaria nell'Emilia-Romagna avrà un costo per abitante nettamente superiore, cosa che è assolutamente anticostituzionale, perché la salute è garantita dalla Costituzione. Per quanto riguarda il documento, sì, noi ci siamo attivati insieme ad altre associazioni, ricordo Centro Carlo Levi, AIART, Alliance, AISM, Serra, poi chiaramente c'è anche la Fondazione Zetema e Casa di Ortega, abbiamo sottoscritto un documento, ma soprattutto abbiamo invitato, distribuendolo, abbiamo invitato tutti a sottoscrivere questa proposta di legge di iniziativa popolare, proposta da Villone e da Viesti, anzi io colgo l'occasione, mi perdonerete se sfrutto questa situazione, per dare indicazioni, perché la firma può avvenire online, quindi tutti possono farla, a questo indirizzo troverete tutte le indicazioni www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it Utile anche ad approfondire questo tema, ovviamente. Certo, troverete anche la proposta, praticamente la proposta con i vari punti. Certo, questo è importante per approfondire. Per dovere di cronaca comunico anche che abbiamo visto poc'anzi delle immagini di una protesta che si è tenuta vicino nei pressi del nosocomio di Matera, con una raccolta firme, in questo caso promossa dai sindacati, e ovviamente per sottolineare i problemi atavici che interessano poi la sanità materana in questo caso, lo sappiamo, ed è per questo che a quei problemi non possiamo aggiungerne altri, e questo è un po' il monito che si solleva a più riprese. Noi, Presidente, la ringraziamo per essere stato in nostra compagnia, ringraziamo Paolo Emilio Stasi, prima ho un vertito i nomi, ma è stato solo... Succede spesso. Certo, invece è Paolo Emilio Stasi, il nome è corretto, così come alla Nagrafe. Torneremo ad aggiornarci presto su questi temi. Come no, senza altro. Buon lavoro a voi, buon lavoro al Circolo Culturale La Scaletta. Grazie. Vi ringrazio e saluto a tutti, grazie. Grazie, grazie per averci seguito anche oggi, vi salutiamo e vi auguriamo una buona continuazione di giornata. Grazie.